Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma per traffico intenso, code a tratti tra Barberino e Calenzano e tra Firenze e Influnite e Incisa Reggello, sulla variante di Valico, rallentamenti tra il Bivio per la 1 e Aglio. In A12, code a tratti per traffico intenso tra Cole Salvetti e Rosignano, con code alla barriera di Rosignano in direzione sud. La statale 330 è chiusa in località Albiano Magra, nel comune di Aulla, a causa del crollo del ponte sul fiume Magra. La viabilità cittadina a Firenze, oggi fino alle 19 in via del Canneto, chiuso il tratto da Piazza De Bonzi a Costa Scarpuccia. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana. Città metropolitana di Firenze e comune di Firenze, buon viaggio!